Il mercato dei dilettanti è sempre in fermento. Nonostante il campionato ormai sia partito da qualche settimana, le compaggini irpine cercano ancora rinforzi. Il direttore sportivo del Città di Avellino, Vincenzo De Vito, ha ingaggiato altri elementi per potenziare l'organico a disposizione di Mister Sgambati. Arrivano in bianco verde l'ex centrocampista dell'US Avellino Migliaccio, il terzino Rigamonti, il centrale Mirabile e l'altro centrocampista Viola. Ha scatenato anche il Lions Mons Militum di padron fabbricatore che ha ingaggiato il portiere argentino Ferraresi, classe 1998, il centrocampista portoghese Monteiro, Negri e l'argentino Salas. Tutti pronti ad aiutare la squadra giallo-verde che vuole ben figurare nel campionato di eccellenza. Il Città di Avellino nella terza giornata sarà impegnato ad Ottaviano e quasi sicuramente i volti nuovi saranno tutti in campo. Mentre la squadra allenata da Contaldo sfiderà la Cerrana, due match difficili e importanti che serviranno a testare il reale valore delle due formazioni.